Ci troviamo al centro operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione Civile ed è da qui che si coordinano gli aerei che compongono la flotta dello Stato e che intervengono a supporto delle squadre a terra delle diverse regioni impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi. Abbiamo appena concluso un punto di unità di crisi dove abbiamo inquadrato la situazione in atto e quella prevista per i prossimi giorni. In particolare si registreranno temperature molto elevate in tutte le regioni del centro-sud e in Sicilia, in Sardegna, nelle aree interne, martedì 10 e mercoledì 11 agosto avremo temperature fino a 45 gradi. Questa situazione risulta particolarmente favorevole per la propagazione e l'innesco degli incendi boschivi e ognuno di noi può fare la sua parte. Se vedi un incendio segnalalo subito al 112, non provare a contrastarlo, cerca subito una via di fuga perché intervenire sull'incendio è un lavoro molto molto pericoloso. Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi sull'erba secca perché in queste condizioni l'incendio può facilmente propagarsi. Non accendere fuochi nel bosco e se lo hai fatto non allontanarti prima di essere sicuro che sia completamente spento. Non incendiare stoppie o erba secca senza le dovute misure di sicurezza perché l'incendio può facilmente propagarsi in queste condizioni di temperatura e di vento. Grazie. 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 Grazie.